Musica Non hanno più di 30 anni i giovani laureati che partecipano al progetto della Regione Toscana orienta il tuo futuro e il significato delle scelte. Si tratta di giovani ricercatori, laureati, dottorandi che si sono resi disponibili a seguire un percorso di formazione per poi andare a testimoniare la propria esperienza di studio universitario e l'eventuale sbocco professionale agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle scuole tecnico-professionali e alle zone più periferiche. Gli oltre 1.200 percorsi di orientamento universitario saranno tenuti nei prossimi mesi, oltre che dai giovani laureati, anche da orientatori esperti ed esponenti del mondo del lavoro e delle professioni. Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di rendere sempre più consapevoli i ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori in Toscana delle possibilità che vengono loro offerte dal sistema universitario toscano. Ma vogliamo farlo in maniera un po' più approfondita, cioè non solo raccontare quella che è l'offerta delle singole università, che comunque fa parte poi del loro orientamento, ma anche far loro capire qual è lo stato della ricerca e poi del sistema delle imprese toscane. La parte innovativa del progetto è il coinvolgimento diretto dei neolaureati nei percorsi di orientamento degli studenti delle superiori. I neolaureati sono quelli che appunto appena usciti dall'università hanno una conoscenza diretta e personale di quelli che sono stati i propri percorsi formativi e quindi sono più in grado di raccontarli ai loro coetanei, far capire ai loro coetanei quelle che sono le possibilità dell'università. Partner della regione nel progetto Orienta il tuo futuro sono le università di Pisa, Siena e Firenze, l'Università per Stranieri di Siena e l'agenzia formativa Forum SC. Il valore aggiunto è quello di cercare di mettere in comunicazione le quattro università toscane, quindi Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri e di farle lavorare in sinergia col mondo del lavoro in maniera tale da cercare di creare una filiera che faccia intravedere agli studenti delle scuole secondarie una prospettiva di formazione ulteriore che è quella universitaria e poi eventuali auspicabili sbocchi lavorativi. Quindi quali sono i risultati che gli atenei si aspettano da questo progetto? Sono quelli appunto di lavorare in sinergia per poter portare nelle scuole che notoriamente non hanno un accesso ai corsi di studio posta secondari la nostra voce è poter far comprendere agli studenti quanto possa essere importante un'istruzione posta secondaria non solo ovviamente per trovare il lavoro che è l'obiettivo del progetto ma anche per una crescita personale che gli consentirà negli anni di poter anche intraprendere strade che in questo momento ancora possono non essere diciamo né aperte né immaginate da loro stessi. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto i neolaureati a partecipare a Orienta il tuo futuro? Io ho fatto la tutor all'università mi sono trovata veramente molto bene ho fatto anche dell'orientamento nelle scuole diciamo mi sono appassionata e per questo ho deciso di fare anche il progetto per portare la mia esperienza dell'università e anche del passaggio tra le superiori e l'università e la difficoltà che ci può essere. Utile ed è utile soprattutto sia come confronto sia per arrivare a una scelta in maniera più consapevole cioè avere avuto, cioè aver comunque una persona avere avuto, stavo pensando al mio percorso delle insegnanti che comunque ci hanno dato delle informazioni ma diciamo limitate alle facoltà un po' più diciamo tradizionali, lettere, giurisprudenza però senza un vero e proprio orientamento nella mia storia personale è un po' pesato perché poi sono stata io a trovare le motivazioni durante il percorso universitario. E che cosa hanno imparato nei due giorni di formazione? In questi due giorni ho imparato a stare in gruppo a fare gruppo e ho imparato anche appunto come si gestiscono i gruppi come si gestiscono i conflitti all'interno dei gruppi come si appianano i conflitti tra un gruppo e un altro come si cerca un punto di incontro Allora ho scoperto tante cose che non sapevo dell'università ad esempio mi avrebbe fatto piacere saperle quando la facevo in realtà la relazione e come comportarsi con la psicologa una signora squisita è stato molto interessante cioè capire come relazionarsi con gli altri non solo con i ragazzi con gli altri, con se stesso quindi un miglioramento anche personale postura, gestualità, queste cose così questo è stato interessante Alla base del progetto c'è una ricerca per analizzare i fabbisogni professionali delle imprese toscane con riferimento alle figure dotate di competenze di livello medio-alto che richiedono un percorso universitario Ma che cosa chiedono le aziende toscane al mondo della scuola? Orientare ha un'importanza fondamentale come formare per cui orientare gli studenti medi e universitari a una scelta consapevole rispetto a quelle che sono le opportunità di percorsi universitari di percorsi formativi e poi di percorsi lavorativi è senza dubbio il sistema organico migliore per arrivare appunto a una scelta consapevole Gli obiettivi per voi? Da parte nostra gli obiettivi sono quelli di avvicinare sempre di più i giovani al settore conciario e al settore della moda in pelle è un settore che ha prospettive e futuro e per questo ha necessità di avvicinare i giovani toscani che sono il futuro della Toscana Intanto prima di tutto manca informazione reciproca perché si pensa appunto che nell'università non ci siano dei percorsi formativi che poi portano i giovani a essere in grado di lavorare all'interno dell'azienda è chiaro che una formazione poi di tipo aziendale ci vuole perché l'università offre dei percorsi che sono dei percorsi diciamo più generali però non bisogna dimenticarci che i nostri giovani laureati poi non trovando lavoro in Italia vanno all'estero e dimostrano all'estero di avere quelle competenze che li fanno stare e molto bene sul mercato del lavoro quindi prima di tutto serve informazione e comunicazione fra il mondo dell'alta istruzione e le imprese In questa prima fase le scuole che hanno aderito sono una decina situate a Firenze Figline Valdarno Piombino Cortona Lido di Camaiore Cascina Pisa e Porcari Abbiamo avuto una grande risposta dalle scuole In particolare ci siamo rivolti a quelle scuole nelle periferie cioè nelle zone più periferiche della Toscana quelle che hanno più bisogno di contatti hanno più bisogno di informazioni hanno più bisogno di far capire ai giovani che studiare funziona è una cosa che serve per il loro futuro L'Italia come sappiamo è un paese che ha un numero troppo basso di lavoriati quindi dobbiamo davvero lavorare tutti insieme per innalzare questo numero e per rendere appunto il nostro paese sui livelli per portare il nostro paese sui livelli degli altri paesi europei grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.